Verso il programma di sviluppo rurale 2014-2020, la Regione Marche che cosa sta facendo? Abbiamo iniziato questo percorso ormai da mesi e oggi è una tappa importante. Oggi faremo vedere come sono stati costruiti i cosiddetti fabbisogni. I fabbisogni sono quelli che poi precedono la definizione degli interventi veri e propri del PSR. Quindi dal punto di vista metodologico coinvolgeremo il partenariato in questo tipo di processo. Quindi ognuno potrà dire il proprio fabbisogno? Già, diversi fabbisogni sono stati espressi nei focus group che si sono tenuti nelle settimane scorse. Altri focus group dovranno essere organizzati nelle prossime settimane, quindi siamo in una tappa intermedia dove già è possibile in qualche maniera partecipare. facciamo vedere come farlo, come organizzare un po' le idee e le proposte. Quali sono i termini, i tempi in cui tutto questo lavoro si svilupperà? Beh, è difficile stabilirlo con esattezza. Esiste un percorso che vede nelle prossime settimane il completamento di questi, diciamo, del coinvolgimento del partenariato, dei cosiddetti stakeholders, cioè i soggetti che poi hanno un ruolo attivo nello sviluppo rurale regionale. Per cui ci sarà bisogno ancora di alcuni mesi prima di arrivare ad una bozza, diciamo, completa di quello che riguarda il piano di sviluppo rurale. E quindi poi via in Europa? E poi via in Europa perché questo piano deve essere in qualche maniera validato dalla Commissione e noi appunto stiamo facendo tutto questo lavoro in qualche maniera rispettando le regole che ci sono state date alla Commissione per avere maggiore successo nella validazione finale.